L'opore di rigenerazione pessimi, intere zone legate gridano a rivalsa, con l'arrope dell'Italia, a ripensare la città. In occasione delle ultime piogge e dei conseguenti allagamenti, ho sottolineato la necessità di avviare a Siracusa un nuovo percorso che coinvolga nello studio delle soluzioni sia l'ordine dei geologi che le università. Gli allagamenti di viatise di Piazza Uribida in particolare gridano vendetta, visto che in occasione della realizzazione di opere nuove di cosiddetta rigenerazione bisognava intervenire con efficacia per migliorare il deflusso delle acque piovane e lo sversamento nel vicino mare per quanto riguarda Piazza Uribida. Queste le prime dichiarazioni di Paolo Cavallaro, consigliere comunale dei Fratelli d'Italia, ma sono tante altre le zone della città, da Villaggio Miano alla Borgata, che sono allegate e probabilmente non sarebbe stata sufficiente la pulizia delle caditoie, certamente insufficienti e sottodimensionate. Stamattina si apre l'evento sull'adattamento ai cambiamenti climatici all'istituto in audio organizzato dal Comune che vede la presenza di esperti, architetti, geologi, rappresentanti dell'università. Mi auguro, prosegue Cavallaro, sia l'occasione per ripensare la città, per avviare seri percorsi di resilienza del territorio alle nuove piogge torrenziali. Il fatto che tante altre città abbiano subito disastri peggiori non deve indurci all'accettazione degli eventi, ma alla riflessione seria di cosa fare per evitare il peggio. Mi auguro, continua il Consiglio dei Fratelli d'Italia, che dopo il confronto dell'Einaudi, l'amministrazione comunale sente il bisogno di procedere con la mappatura delle aree inondate, l'eventuale aggiornamento del piano di assetto idrogeologico e di trovare il finanziamento per la realizzazione di opere, come il collettore a mare delle acque piovane del Villaggio Miano, illustre assente tra quelle finanziate dal PNRR. Ritengo doveroso poi che il dibattito si riprende in aula consigliare con i rappresentanti dei cittadini, anche se sappiamo bene come il Sindaco Italia sia allergico alle partecipazioni ai dibattiti consigliari. Sono pronto ad approvare gli atti politici necessari se verranno portati all'attenzione dei consiglieri. Vi auguro che non sia spreco di parole, seppure autorevole, ma l'avvio di una seria riflessione sul futuro della città che coinvolga cittadini tutti, gli esperti e il Consiglio Comunale, conclude Paolo Cavallaro.